vedete buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi siamo sto facendo il giro a milano ea in centrale e vedete guardate in centrale sono ci sono tante persone siamo già agosto e gente non vanno a vacanze prima a lodi ero ho fatto la colazione ora sono qua a milano a fare un giro sto tornando a casa oggi oggi arriva a casa oggi io faccio vado a fare un giro al centro e dopo il giro al centro provo vr prova a casa a vedere ancora non l'ho provato ho provato solo i miei amici ieri sera e oggi provo come vr e cosa devo dire commentate questo video e sono qua fino a casa dal vivo qua fino a casa adesso ho preso questa mattina lodi la la cover ce l'ho fatta filare la cover e però è bella c'è una scritta non si può dire ora sto andando a casa e basta andiamo a bari si il mio ragazzo vuole andare a bari però quest'anno non vado a vacanze volevo andare a fare due giorni a cena il 19 18 e 19 non posso andare a vacanze ora continuo fino a casa sono qua a diretta con voi se volete sempre ripeto ancora iscrivete il mio progetto è il mio canale piero nardo e voglio tanti commenti commenti e vedere questi video ora finissà la sigaretta vado a prendere la metro gialla o 42 non so qual peggiamo per me è meglio 42 così facciamo il giro a milano e basta oggi è bella giornata era bello andare a duomo però però oggi sto a casa mi riposo un po e basta sono contando sto andando sto andando pirametro sto camminando e basta adesso ci sono tante persone vedete quanto sono se gente aspettando sono aspettando il treno vanno tutta mare e io sono qua a milano e basta e basta ora esco in centrale e e la metropa romica è difficile forse anche perché ci sono tante persone ora piano piano esco ora se pigliamo 42 vedete il il posto in centrale a milano faccio anche un messaggio a se chiama quella ragazza mi ha scritto veronica no partizia partizia si chiama partizia quella ha scritto il canale saluto quella ragazza mi ha sia scritto il mio canale partizia partizia e sono anche io ho scritto il tuo canale ho visto un video e mi è piaciuto e commenti anche tu e basta ora sto uscendo in centrale sono cosa chiamati 42 42 ok ora vedete milano questo è il milano questo è il gente questa qua alzioni cinese questo vende roba no 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 ora vedete milano guardate ora faccio per voi questo questo in giro milano per voi io spero commentate più presto vedete questo video milano questo è il milano ora facciamo il giro milano se vai sempre dritto di là andiamo ai garibaldi corso como dopo c'è moscova dopo piazza castello e dopo c'è duomo e 10 minuti di qua, 10 minuti di strada c'è c'è i militari la polizia sempre i controlli ci sono qua sempre meglio ci sono i controlli più bello così ci sono tanti pulizotti questo qua è il pezzo di l'attro in centrale che è grande hanno fatto il grande nuovo in centrale c'è tanti negozi giù la team, la 3 c'è Zara c'è tutto c'è ora sto andando a pigliare la 42 o 42 o i 5 perché oggi è domenica c'è l'orario sballato ogni domenica sempre l'orario sbagliato e questo è il Milano guardate questo è Milano questa è questa qua è uscita proprio in centrale che ci sono tre uscite una a destra una in mezzo una a sinistra a sinistra vai a tutta la tua parte in centrale ci sono i tazzi tazzi e ora vado qui a 42 non lo so a che ora arriva se arriva il pitagio posso fumare una seconda sigaretta eh sì io fumo tanto fumo eh sì un pacchetto a giorno fumo però è un problema non va bene dopo il 20 di settembre devo fare una operazione la mano e non so se faccio ce la faccio a fare un video con una mano perché l'altro ho i punti e il gesso adesso vedo se ce la faccio fare un video anche a CTO sempre a Milano vicino a casa mia e qua mai in centrale ci sono un porci dovremo come una sigaretta aspetto 42 vede a che ora arriva 10 minuti arriva no no è troppo troppo mi ha detto mia ragazza è troppo piace uno piace uno piace uno ho detto come puoi vedere non è nebbosa anche qua e basta mia ragazza saper nervoso mi da sempre aspetta ragazzi scusate oh vediamo chi 12 minuti e 5 12 minuti e 5 oggi è domenica è così l'orario o deciditi voglio vedere chi ha piace questo qua cosa piace o cos'è cosa ha visto adesso adesso i video commentate e metti un mi piace e ora sto andando a piedi 42 qua 9 minuti mancano tramite 12 12 minuti e 5 prendo a 42 adesso adesso vedete Milano adesso mi giro la terza camera mi giro questo è tutto Milano a parte di centrale dopo c'è Piazza Castello Duomo eccetera eccetera c'è una che sono guardate ok sì dopo quando vado anche Duomo vado oltre faccio ancora i video e ora parto di qua fino a casa faccio i video e dopo chiudo il canale e basta e io voglio solo ho fatto questo sto facendo questi video perché mi piace perché fanno tanti i miei amici fanno anche le altre persone questi video e a scrivere il canale qua youtube voglio provare scrivete sempre il mio canale Piero Nardo e io queste cose dico sempre scrivete il canale centra centra è arrivato a 42 manca 7 minuti e parto torno quando arrivo a casa chiudo dal vivo chiudo e ci vediamo più tardi dopo mangiato faccio un altro video dico le cose cosa mangiato cosa devo fare tutta giornata e bene adesso manca 7 minuti prima scassirete entro a 42 guardate guardate dopo la 42 questo è 42 dopo il pullman guardate tutto metà milano diciamo perché se faccio tutto a milano e tutto milano e faccio pieno piano ho finito ora entro in centrale già fa caldo 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 non c'è po' manco un all'aria adesso sono a 42 guardate sono dentro a 42 e ci sono qua incinta da tante persone tante persone e tutti tipi ci sono qua e basta oggi ho preso anche la cover nuova perché ho preso la S8 e ho preso la cover e basta cosa devo dire adesso arrivo a casa mangio perché prima che sono ancora 11.04 mesi e mezzo luna mangio ora quando arrivo a casa quasi quasi provo BR e e basta commentate questo video adesso ho visto già una persona piace questo video e basta ora quando arrivo a casa lo faccio la seconda parte di video e basta adesso ti saluto ora ora saluto vi saluto e ci vediamo tra poco quando arrivo a casa ciao ragazzi e commentate Pierronardo questo video dopo faccio l'altro video a casa ciao ragazzi ciao 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 Grazie.